cari fratelli e care sorelle e vivo ancora in noi il sentimento di gioia che la festa della divina misericordia ha lasciato nel nostro cuore una gioia viva la gioia del signore risorto colui che è amore e gioia infinita l'amore che abbiamo conosciuto e che quotidianamente sperimentiamo attorno a questo tabernacolo d'amore questa piccola culla dove il signore risorto è tornato dopo essere salito al cielo così come promesso per non andare via mai più qui il signore ha impresso in noi la conoscenza piena del suo essere incidendo a fuoco nel nostro cuore il suo vero volto affinché l'inganno non potesse e non possa prendere possesso nei nostri cuori affinché il dubbio non possa insinuarsi nel cuore e la consapevolezza piena del maestro e signore viva sempre in noi e ci faccia ardere non solo di speranza ma di certezza viva della sua vicinanza la certezza della sua viva e concreta presenza in mezzo a noi specialmente in questi ultimi tempi in cui la fede è messa a dura prova e la pace non è mai stata così instabile sulla terra sta a noi far comprendere a tutti di non abbattersi mai soprattutto nei momenti di maggior difficoltà di non arrendersi mai alle lusinghe del mondo che prima ti adula e poi ti getta via di non lasciare entrare nel cuore il sentimento dello scarrangiamento e dello sconforto affinché non si faccia come i discepoli di emma su richiamati nel brano del vangelo che erano afflitti e titubanti nella certezza di gesù quale salvatore e messia bisogna essere sempre pronti nel riconoscere la presenza di dio accanto a noi riconoscere sempre la voce dello spirito che parla al nostro cuore ma soprattutto essere sempre veritieri e santi nel testimoniare con la propria vita il signore risorto colui che si è offerto per la salvezza di tutti per tutti coloro che lo hanno riconosciuto per coloro che lo avrebbero riconosciuto e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà per vivere la vera pace affinché il mondo esca dalla prova della guerra che conduce all'odio e non alla fratellanza bisogna riconoscere gesù unico vero e santo salvatore che conduce alla salvezza qui in questa culla abbiamo riscoperto la vera fede il vero amore e il suo vero volto ecco perché mai potremo dimenticare o non riconoscere l'azione dello spirito santo che ci accompagna ogni giorno per poter discernere l'inganno dalla verità e riconoscere sempre il signore che qui è tornato ecco la pasqua viva senza fine che noi già viviamo in attesa del compimento finale che ci proietterà a vivere poi l'eternità cari fratelli e care sorelle gesù è veramente risorto e qui infonde ed effonde la sua viva presenza e la sua infinita misericordia per ogni peccatore che si penta è sempre pronto a chinarsi davanti a chi sinceramente lo invoca ma è anche pronto ad ergersi come giudice davanti a chi con superbia a lui si rivolge ecco la sua viva e misericordiosa giustizia che accoglie e stringe a sé chi si umilia e respinge chi si innalza lasciamo che il cuore ci arde in petto davanti alla sua presenza che qui nella nuova gerusalemme tutti noi sperimentiamo e dove tutti noi vogliamo rimanere il buio avvolge le nazioni ma qui o signore nella tua casa il sole è sorto e mai più tramonterà e così sia dio padre onnipotente benedica noi tutti nel suo santo nome di padre di figlio e di spirito santo